a sosta, no lascia lì spostiatevi da lì dai allora vedi lì stai qui stai qui ooooooh stai in casa veste stai qui stai andando via stai qui stai qui stai qui adesso devi questo deve essere così io sai che adesso la catena adesso la porta non va no 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 che le che le non 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 stenditi 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 faccio lì stenditi Sì! Monta su, Nello! Monta su! Adesso, Nello, monti su te però! Ma va bene, va! Cristiano, torniamo a fare da freno, vai! Che roba? Eh! È bruttina? Fino lì ci vuole, che non sta più colpendo su di là! Vai, Celisa! Non è tutto! Certo, tutto il cuore! Ma come stai lì? Eh? Come stai lì? Ma è tutto bene! Ci devi dare il cusciro o stanno lì? Sì! Ci sta bene addirittura! Ci devi dare il cusciro poi, da un modo io va bene, vai! Ah, sì! Posso scendere? Sì! Posso scendere? Eh! Non mi devi filmare a me, perché non devo comparirne i video senza batti? E' da passare a me! Pegli! Pegli!